Questa che vi sto inquadrando è la Ficaria verna, chiamata in italiano favagello, è una pianta della famiglia delle ranuncolacee. Allora, si chiama Ficaria verna perché la pianta presenta questi tubercoli, vedete, tubercoli che sono fusiformi e biancastri che ricorderebbero un fico. Ecco, e quindi da qua Ficaria verna invece perché è una delle prime piante che spuntano a fine inverno inizio primavera e già a fine febbraio ma anche metà febbraio quest'anno dato che fa molto caldo e marzo è già fiorita quindi una delle prime piante che trovate fiorite. Come facciamo a riconoscerla? Allora, guardate le foglie, le foglie sono picciolate, lungamente picciolate. Allora, la pianta per prima cosa è piccola perché solitamente è una pianta perenne, erbacea perenne che raggiunge 5-10 cm d'altezza. Le foglie, dicevo, sono lungamente picciolate e hanno questa forma della lamina che è cuoriforme. Il margine, se riesco a inquadrarlo, il margine è crenato, sono presenti delle nervature e al termine delle nervature spesso sono presenti dei puntini bianchi. Vediamo se riesco, eccoli lì, se riesco a farvele vedere col cellulare. Quindi questa qua è la parte anteriore della foglia e qua abbiamo invece la parte posteriore. Spesso al centro della foglia è presente anche una macchia più scura che serve ad attrarre gli insetti impollinatori. La foglia è completamente lucida ed è glabra. I fiori invece sono posti sul lungo peduncolo, sono fiori solitari, hanno questi 3-4 sepali verdastri che formano il calice e la corolla invece è formata da una decina di petali giallo-brillanti. Poi hanno numerosissimi stami con antere gialle. Allora, è della famiglia delle ranuncolacee. La famiglia delle ranuncolacee è una famiglia considerata completamente no, quindi completamente tossica perché produce sostanze che sono appunto o tossiche o irritanti. Però nella famiglia delle ranuncolacee per quanto riguarda la commessibilità ci sono delle eccezioni. Una delle eccezioni è la Clematis vitalba, i cui getti primaverili, i cui apicieduli vengono mangiati in primavera, chiamati vitalbini. E poi un'altra eccezione è proprio la Ficaria verna perché è una pianta che in verità è sempre stata mangiata, soprattutto le foglie crude, prima della fioritura, in quanto ricchissime di vitamina C. Quindi addirittura era una delle cure per lo scorbuto, appunto per la quantità di vitamina C. Hanno un sapore acidulo molto piacevole. Io le aggiungo sempre nelle mie insalate perché mi piace proprio il sapore che hanno. In teoria poi la pianta non andrebbe mangiata dopo la fioritura perché dopo la fioritura sviluppa protanemonina che poi può dare luogo alla nemonina che è una sostanza irritante sulle mucose. Quindi rischiereste di irritarvi le mucose, di crearvi delle vesciche. Questa è la teoria, però in pratica la protanemonina e anche la nemonina sono termolabili, quindi in verità anche dopo la fioritura, pur essendoci queste sostanze, essendo termolabili, se voi la utilizzate cotta potreste utilizzarla anche dopo la fioritura. Non solo, ad esempio noi anche l'anno scorso abbiamo provato a fare i capperi con i fiori, con una fermentazione. La fermentazione è una tecnica che riduce le sostanze, riesce a ridurre le sostanze tossiche e infatti i capperi non ci hanno dato alcun problema. E poi abbiamo fatto anche questi tubercoli in agrodolce che sono piaciuti moltissimo, tra l'altro. Ecco qua, però ovviamente queste cose sono state fatte da persone esperte, quindi ben lungi da me consigliarvi di utilizzare una pianta che è bellissima da vedere, è utilissima per gli insetti, quindi lasciatela pure giù. Volevo solo dirvi il nome perché spesso molti di voi mi stanno chiedendo il nome proprio di questa pianta che vedono spuntare in primavera, che è bellissima. Ed eccola qua, è la Ficaria Verna, favagello.